parte del Vintage People Network E prima di questa bellissima puntata voglio suggerirti di buttare un ascolto anche al mio podcast Io sono Lomone e Atariteca è il mio podcast contro la calcificazione dei neuroni Ogni giorno parlo di retro gaming, storia dei programmatori, aziende informatiche storiche e iconici videogiochi e lo faccio con un taglio molto irriverente che spero ti piaccia Noi siamo i Vintage People e se ci ascolti sei vintage anche tu Harder Memories, secondo anno, questa è la prima puntata del secondo anno di Harder Memories e lo so perché me l'ha detto la piattaforma, ha detto bravo sei arrivato al secondo anno e come ospite per la prima puntata del secondo anno abbiamo un carissimo amico del museo mio personale e nonché lo spiegheremo dopo Ecco noi Leonardo Vettori, ciao Ciao, ciao, ciao a tutti Allora, Leonardo non è una voce nuova nel palinsesto di The Vintage People perché è già stato ospite un paio di anni fa presso il buonomone Simone Guida da Atariteca se ricordo bene, giusto? Sì, sì, giusto Ricordo benissimo ed è qua per la stessa funzione che spiegò in quel giorno, quella mattina o quella sera poi non so quando l'avete registrata la puntata io l'ho ascoltata la mattina, quindi per me l'avete registrata la mattina però può darsi l'avete anche registrata la sera No, si registrò di sera e probabilmente l'hai sentita una o due settimane Quello di sicuro perché c'è sempre un delay tra il desiderata e il realizzata Leonardo è un socio del museo, non so se l'ho già detto o lo ripeto tra l'altro è uno di quelli che partecipano abbastanza nel senso che ha fatto delle proposte e una di queste è diventata anche la spina, lo spunto più che la spina per una mostra che si è tenuta al Museo della Preistoria di Firenze per circa una decina di mesi Sì, sì, è andata bene È andata benissimo, è finita a novembre e niente, quindi ci fa molto piacere averlo ospite e come sai, buon caro Leonardo, qua si parla di memoria hardware Io e te ci siamo conosciuti anni fa al Firenze Vintage Beat alla manifestazione che l'associazione di La Strassigna se ricordo bene, ora avrei fatto un errore che scatena una guerra La Strassigna No, perché sennò si scatena una guerra locale tra La Strassigna e Signa Ci siamo conosciuti lì e quindi sei comunque un appassionato del settore per cui, carissimo, quali sono i tuoi primi ricordi hardware? Da cosa sei partito in questo splendido mondo? Allora, io sono partito la prima volta ho desiderato il Commodore V20 Mi ricordo che era novembre eravamo vicino a Natale e come ho detto tante volte il mio compleanno è il 23 di novembre mi avevano regalato il Lego che ero felicissimo, ero un bambino felice poi quella sera alla televisione vedo la pubblicità della Commodore con il Vick Venti con la musichetta quella dimmi come fai se non ce l'hai e io non lo so cosa mi prese io vedi quel biscottone lì il primo biscottone del Commodore 64 con quei pulsanti arancioni bellissimi da una parte e me ne innamorai io non potevo più vivere senza non capivo cosa faceva però sapevo che non potevo più stare senza e quindi mi ricordo che passai quel mese da novembre fino al 25 di dicembre a stressare il mio babbo poveraccio per farmi comprare questo computer naturalmente allora costava 199.000 lire più IVA più c'era registrato insomma si arrivava a 300.000 lire e 300.000 lire nel 1983 erano tanti soldi e il mio babbo non ci pensò nemmeno a comprarmelo ma fece pure bene e quindi però iniziai a comprare le riviste in edicola mi ricordo list mi ricordo insomma quelle che si trovavano per leggere i listati in basic e imparare qualcosa l'anno dopo compievo 14 anni naturalmente un ragazzo di Mercatale e Valdipesa che vive in campagna a 14 anni desidera il motorino per andare nel paese più vicino insomma spostarsi un po' a San Casciano insomma a San Casciano esageriamo pure a Tavarnelle va? tra l'altro scusami Leonardo è quel San Casciano Valdipesa chi avesse dei dubbi è quel San Casciano Valdipesa è quel mercatale Valdipesa quel mercatale Valdipesa sì sì noi non siamo diventati famosi per i computer qua no assolutamente siamo diventati purtroppo tristemente famosi per questo gruppo di simpaticoni che andavano a fare merende esatto i famosi compagni di merende esatto esatto e nulla a 14 anni un ragazzo da queste parti desidera il motorino e naturalmente io iniziai a chiedere il motorino e il mio babbo pensò bene di non comprarmelo perché sarei comunque caduto da qualche parte allora disse vabbè non vuoi il motorino ti compro il computer che volevi l'anno scorso e no ora va bene come si dice da noi va bene se vischi ma anche fino a un certo punto cioè no il computer dell'anno scorso non lo voglio più era il D20 perché è passato di moda voglio quello nuovo il Commodore 64 e quindi fece un piante e un lamento invece di spendere un milione e due per il sì spese 400 mila lire per il Commodore 64 e quell'anno non mi vide cadere in terra e farmi male al motorino salvammo almeno un'estate e quindi mi arrivò a casa andammo a comprare il Commodore 64 alla metro lì a Sesto a Sesto Sesto sì sì ho ritrovato anche il vecchio scontrino c'è ancora lo scontrino tutto in giallino è una cosa quello se c'hai una fotocopia e me lo mandi ho deciso ho deciso anche di tenere la documentazione cioè ho deciso noi del museo lo sai no ci sei stato abbiamo anche documentazione originale ed è interessante far capire quanto si spendeva per quella roba lì in quegli anni che non è proprio regalata come qualcuno può pensare più che altro è interessante capire come la mia mamma teneva tutti gli scontrini perché nel caso in cui si rompesse si riportava e l'ha tenuto la poveraccia fino al 2019 poi se n'è andata lei però insomma non si sa mai magari si rompeva nel 2018 e si scriveva la Commodore la Commodore si riportava a riparare ecco insomma è andata così e quindi niente quell'estate che facevo un caldo bestia arrivai a casa con questo Commodore chiusi le tapparelle di una stanzina che poi era un mezzo ripostiglio mi chiusi là dentro e per una settimana ho giocato a ripetizione a Bruce Lee Pit Stop 2 Uridium e sono diventato scemo perché dopo una settimana che senti quelle musica a ripetizione non è che ne esci sano ecco cioè ma i tuoi non ti battevano scusa Leonardo sembrava la scena di un film Leonardo stai facendo in casa dove papà lavorava e mamma era sempre a pulire casa non si sa perché c'era sempre questa casa da pulire mamma era casalinga classica in cui si puliva tutto dall'inizio alla fine nel caso in cui arrivasse qualcuno poi non è mai arrivato nessuno però la casa è sempre stata immacolata no? Con il reparto bar sempre pronto per qualsiasi cosa che ho bevuto certo certo no no il reparto bar era sempre era sempre bello prospero e nulla poi dopo una settimana incominciai a scoprire piano piano il basic a lavorare sugli sprite a fare i conti binari o no? assai un'estate a imparare diverse cose tante cose e naturalmente il mio sogno era quello di realizzare giochi e diventare ricco e famoso e non è mai successo però però già ci avevi perché chiaramente poi chi ti conosce sa già le tue ultime le tue ultime ritrovate le tue ultime uscite le tue ultime creazioni ecco non mi veniva il termine giusto scusami le tue ultime creazioni questa passione viene da lontano in realtà cioè questo di confrontarsi sul come si fanno giochi sì quello sì non so su giocare no giocare mi annoia dopo un po' mi annoia mi piace mi piace provare i giochi vedere come funzionano per carità mi piace anche la grafica io faccio grafica però mi piace vedere se ci sono concetti nuovi lavorare su quella roba e io di solito e io di solito sono anche un pessimo giocatore anzi sono proprio una schiappa e non ho nemmeno diciamo quella passione di arrivare in fondo per forza o di dover distruggere tutti i nemici o di fare lo score più grande no quella cosa lì proprio non mi appartiene per nulla e quindi non arrivavo mai in fondo a un gioco in pratica però mi piaceva vedere come erano stati fatti più che altro allora più che altro si parlava di grafica perché insomma con il Commodore 64 insomma era tanta roba e nulla è andata è andata così però preferisco vedere come sono fatti che giocarci onestamente ma quindi c'è te prendiamo un ridium che è uno di quelli che hai detto e che fra l'altro è uno dei miei preferiti del 64 se ricordo era era orizzontale giusto uno sparatutto a me mi colpì per la la cioè il livello di scrolling che se ricordo bene allora facciamo una parentesi per chi ha sotto 40 anni uno dei problemi del 64 ma non era solo diciamo uno dei problemi degli on computer degli 8 bit era affrontare lo scrolling perché non era così banale spostare tutto quella grafica soprattutto per un gioco come Euridium che da destra si andava a sinistra o viceversa giusto? ricordo bene giusto vi potete immaginare che non è lì il problema non era ogni 30 frame il problema era essere credibile cioè non è che potevi rallentare di schianto al momento della virata la velocità di aggiornamento della grafica io mi ricordo che Euridium però forse perché ne uscì tanti in quel periodo in due o tre anni sono uscite una marea di sparatutto orizzontali che potevano anche tornare indietro perché tutti verso una stessa parte ce n'era però alcuni facevano anche sto giochino e potevi tornare indietro e a me mi stupì per la grafica ma quel fatto lì aveva una fluidità incredibile non so se ha fatto lo stesso effetto anche a te subito allora a me mi stupì per due o tre cose allora prima di tutto è un gioco veramente elegante fa tre cose ma le fa veramente bene e quindi ti sembra chissà che cosa però in realtà fa tre cose cioè uno è fare lo scrolling a destra e a sinistra due è rallentare con lo scrolling quando con l'astronave puoi un po' rallentare vero e poi dopo una cosa fighissima ma veramente figa era quando l'astronave cambiava direzione e faceva la giravolta e tornava indietro e lì era un piacere per gli occhi è un po' come quando vedi 1942 il gioco della Capcom in verticale che fa la rotazione no? e poi in realtà nel gioco c'erano i nemici da distruggere che non erano nemmeno poi tantissimi e poi dopo c'erano le bandiere questo mi ricordo di Euridium o almeno i primi schemi perché poi non era facile e io era una schiappa quindi se c'è qualcosa dopo non lo so sì c'è c'è qualcosa dopo mi hanno detto mi hanno detto se c'è però in pratica quelle tre cose erano fatte talmente bene che era un gioco perfetto praticamente elegante in quello che doveva fare e soprattutto quello che mi piacque cioè sì la grafica però l'atmosfera le ombre che venivano da sinistra verso destra mi sembra e quindi in realtà poi la grafica è fatta anche con pochi caratteri è fatta anche con pochi tiles se uno va a vederlo però era era fatto talmente bene nella nella sua nel suo concetto che era perfetto per me era veramente perfetto poi era una schiappa io ma il gioco era meraviglioso no tra l'altro poi c'era io un'ora non vorrei dire una scemenza la colonna sonora di Hubbard credo non vorrei dire però sai è stato il morricone del 64 faceva tutti perché c'era le colonne sonore di Hubbard certo cioè tra l'altro una parte di scherzi comunque il livello sempre alto però bisogna essere anche onesti perché si ispirava anche a pezzi famosi prendeva spunto da da sonorità famose però deve essere onesto cioè dava ha sempre dato un gran ritmo ai giochi in cui a cui ha partecipato però mi ricordo questa cosa dell'eleganza ora che la spieghi sì è vero cioè era sembrava ecco il movimento rotatorio no di cambio di direzione era sembrava fatto sulla seta sì e dai anche ragione il gioco di ombre era clamorosamente fatto in maniera realistica per quanto poi nessuno è stato sullo spazio e quindi cioè non è che uno sa come è la ombra di una nave spaziale però faceva molto eh morte nera di vero entri nel tunnel eh visto dall'alto visto dall'alto visto dall'alto sì 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 ok quindi Uridium eh quanto c'è quanto tempo hai passato il 64 allora e con il 64 io ci ho passato fino ai 17 anni diciamo c'è 4 anni quindi sì tre tre anni facciamo tre quattro anni perché a un certo punto io ho deciso di fare di diventare perito informatico e quindi in terza e superiore compriamo il pc quindi abbandonai il Commodore 64 lo mise una parte da una parte per iniziare la programmazione col Turbo Pascal col C++ con insomma tutta questa roba qua ecco insomma cominciai a dedicarmi alla programmazione il Commodore 64 l'ho abbandonato piano piano ma proprio di schianto cioè l'hai messo nella scatolina di polistirolo no no cioè col Commodore 64 ci volevo giocare cioè ci giocavi perché allora con i pc non ci facevi nulla io addirittura avevo la scheda cga mi sembra era una cosa tremenda e mi ricordo ancora il computer il pc che avevo era un clone dell'Atari una cosa tremenda veramente clone dell'Atari o era un Atari mi sembra era un pc Atari qualcosa allora qui davanti al mio monitor si sono aperti Federico Gori e Simone Simone Guidi l'Atari ce l'aveva la sua linea perché quando arrivò a Tremiel all'Atari e siamo in quegli anni lì anzi forse negli anni inizio anni romani non mi ricordo quando è uscito dall'azienda lui aveva l'idea di fare anche computer professionali oltre all'Atari ST quindi so di sicuro ho visto anche le pubblicità che l'Atari fece dei pc compatibili va passami passami il termine quindi potresti aver avuto un Atari ti rendi conto avrei avuto un Atari però non me lo ricordo bene non mi ricordo via bene vabbè diciamo che i colori che avevo la CGA me lo ricordo bene ah no vabbè quello infatti ogni tanto riaccendevo il Commodore 64 e comunque nell'87 88 si parla di quegli anni cioè venivano fuori dei gran bei giochi eh no no infatti tanta roba ricordiamoci ricordiamoci che 64 ha avuto un ciclo vitale di quasi 10 anni più o meno più o meno anzi talmente di successo la Homo doveva fare anche il Commodore 65 che per me rimane uno dei più grandi misteri e lo so questa cosa la ripeto spesso però a me qualcuno mi deve spiegare per che senso aveva un 8-bit nel 1993 però questo no non aveva nessun senso probabilmente c'era qualche program manager commerciale che voleva fare carriera e spingeva su quelle cose lavoro in azienda da tanti anni e decisioni che non hanno senso non voglio dire tutti i giorni ma quindi sarà successo lo stesso alla Commodore ecco esatto qui stiamo sfiorando le nostre vite lavorative quindi non ci siamo a rischio no no non ci sono quasi tutti i giorni non ci sono problemi ma a me anche recentemente anche abbastanza ridicolo ma non stavrò attento perché sennò poi mi criticano e mi censurano al lavoro qui si finisce perché io ho filmato anche un foglio in cui non parlo male del lavoro al di fuori ai canali lavorativi quindi io non è vero ho solo fatto un discorso ipotetico mi raccomando mi raccomando raccomando se ricordo quindi sei passato dall'8 bit a 1632 probabilmente no sempre l'8 bit perché quel pc ci aveva l'888 dentro bravo ti eri affezionato alla piattaforma sì esatto quindi passai da un 8 bit a un altro 8 bit esatto ti sei fatto anche il C++ comunque complimenti perché non io per esempio sono partito con il COBOL quindi voglio dire sono partito proprio da altro che eleganza quella quella era proprio roba scritta alla stilografica con la programmazione e quindi hai fatto poi tutto il percorso pc giusto pc compatibile sì poi ogni tanto provavo linguaggi nuovi mi ricordo il logo ho provato il forze no alla fine insomma li ho provati un po' tutti e poi alla fine ho scoperto che non mi piaceva programmare dopo quanto al diploma quando sono arrivato al diploma ho detto ok l'ho preso a me però non mi piace mi fa schifo mi fa schifo mi fa schifo perché avevo iniziato all'istituto tecnico perché il mio sogno erano i videogiochi e poi mi sono reso conto che avrei passato il resto della mia vita a stare dietro al database a programmi poi io sono una persona molto sprecisa tante volte i miei programmi non funzionavano non perché non fossero costruiti bene ma perché perdevo punti e virgole due punti e sintassi da tutte le parti quindi entravo in quei giri di loop poi bene o male bene o male con c++ o col basic uscivi da uscivi da un cillo no in qualche modo baravi e uscivi a forza il pascale invece mi fregava non ce la facevo quindi quando dovevo programmare il turbo pascale era ero perso insomma ma scusa ma ma quanto sei uscito in quinta informatica scusami ma con 42 no ma voto ah ma voto proprio della materia specifica no che rapporto avevi avevo un bellissimo rapporto no no era ero andavo bene solo che mi resi conto e non mi piaceva ecco vabbè comunque meglio a 18 anni che a 40 voglio dire meglio a 18 anni che a 40 poi grazie a Dio ho confermato le mie impressioni perché vicino a me ho un ufficio di informatici e insomma ogni tanto li guardo come degli alieni e e continuo a fare il mio lavoro probabilmente loro guardano a me come un vecchio però insomma vabbè quello anche a me figurati ci si guarda e si sta zitti però sono contento di non aver fatto informatica perché non non ce l'avrei fatta cioè non sarei stato felice ecco tutto qua vabbè secondo me è un è bello no lo dico seriamente è bello a un certo punto scoprire che sei preso una strada sbagliata cioè una sbagliata che non è tua certo e a 18 anni secondo me è più facile cambiare strada che a 50 per dirti cioè si può fare sempre ma meno teoricamente cioè in base a tutti quelli motivatori che si trovano su internet è sempre possibile cambiare strada io sono un po' meno convinto però diciamo si può ipoteticamente fare però a 18 anni c'hai come dire c'hai modo e tempo per ricostruirti strumenti nuovi ma si poi a 18 anni beh non è che uno capisce cosa vuol fare nella vita a 18 anni ancora la vita una vita deve iniziare lì no quindi vabbè bisognerebbe fare il secondo giro bisognerebbe fare il secondo giro sì sì bisognerebbe fare il secondo giro sì quindi diciamo questa formazione comunque ce l'hai avuta sui pc il 64 lentamente è andato diciamo in no perché poi a un certo punto l'hai recuperato però diciamo l'hai messo in una dispensa sì e dopo che hai fatto cioè il tuo rapporto con la tecnologia come si è dopo non ho più nessun rapporto con la tecnologia eh ho viaggiato ho lavorato ho fatto tanto vabbè per lavoro usavo il pc ma sai quando lavori poi usi word usi excel usi quelle robe lì non è che non è tecnologia non è tecnologia esatto non è tecnologia non è lavoro no è lavoro proprio io per circa 25 anni eh non c'ho non ho giocato cioè non non mi interessava tutti avevano la playstation il nintendo a me proprio non 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 mi non mi piacevano cioè ho fatto altre cose ho viaggiato ho studiato ho visto film ho letto libri no ho fatto tante altre cose però ecco i videogiochi proprio non mi interessavano più cioè non non facevano più parte della mia vita poi quando fu dieci anni fa forse di più boh qualcosa se non è meno no poi andai lessi sul giornale che facevano questo raduno di vecchi computer alla strassigna il Firenze Vintage Beat eh è meno dieci anni fa eh no forse di più di più vabbè sì forse di più dimentico c'è stato il covid faccio sempre fatica c'è stato un periodo del covid esatto contano anche gli anni ho sentito esatto hai ragione insomma facciamo dieci anni fa qualcosa del genere e quindi questa cosa mi incuriosì mi ricordo era un novembre era piovoso non c'era nulla da fare a un certo punto dissi vabbè dai vado alla strassigna a vedere questa mostra tanto non c'è nulla da fare male male dopo si va al centro commerciale cioè che vuoi la presi un po' un po' così no male male si sta lì cinque minuti e poi si va ai gigli ecco ho detto ora nulla entrai in quelle stanze e boom e un colpo al cuore un colpo al cuore perché mi rividi subito immediatamente con il commodore vidi addirittura gli amiga che per me allora l'ultima volta che ci avevo messo le mani sopra un computer erano dei grandi signor computer evoluti con una grafica meravigliosa e lì quel giorno mi sembravano vecchi pure l'amiga no cioè mi fece questo effetto nostalgia spaventoso e niente mi divertì praticamente tutto il pomeriggio e appena tornai a casa senti il bisogno di andare a riprendere la scatola con il commodore 64 riaprirlo accenderlo e mi dette lo schermo nero quel bastardo vabbè può succedere qualche condensatore 25 anni e mi dette lo schermo nero e ci rimasi male allora in una settimana subito comprai un vic 20 per 30 per 30 euro qualcosa del genere si parla e subito un commodore 64 e ok non era il mio commodore 64 ma era un altro commodore 64 e lo riaccesi e incominciai a giocare a qualche cassettina perché comunque il registratore funzionava insomma da lì piano piano sono ripartito e incominciai a rigiocare ai giochi con gli emulatori ok a riscoprire tutte quelle piccole perle e e da lì insomma piano piano no insomma piano piano è stata insomma mi ci divertivo ecco purtroppo ogni volta giocavo ai giochi erano nella realtà molto più brutti di di come me le ricordavo tranne uridium tranne bruce lee tranne mission impossible insomma ci sono dei giochi che 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 non invecchiano ecco quelli secondo me sono sono questi è andata così è andata così e oltre alla quindi alla riscoperta va diciamo riscoperta del tuo passato vabbè ora non da bambino comunque della tua adolescenza vai adolescenza si può dire ti è nata la voglia anche di fare quello che per cui avevi studiato sì allora più che altro mi è nata mi è nata la voglia di disegnare quello che volevo fare perché negli anni 80 c'erano i tool per disegnare ovviamente però erano un po' macchinosi no e oggi erano belli per l'epoca ovviamente però oggi tu puoi disegnare schermate grafiche per il 64 con windows con tutti i tool usando il mouse la cosa è molto più veloce trovi subito soddisfazione nel fare le cose no e tutto e quindi io avevo proprio voglia di disegnare un qualcosa ok e soprattutto portarlo in fondo perché succede che tanti di noi hanno tante idee ne iniziano mille e non ne portano in fondo una è divertente pure quello mancherebbe altro però poi alla fine io sentivo il bisogno di portarne in fondo una e mi ricordo e quindi da cosa sono partito sono partito da un vecchio programma che avevo utilizzato nell'87 che si chiamava il SEUC Shot Them Up Construction Kit esatto che non mi ricordo di che casa era era quella della Sensible eh boh non mi ricordo e comunque ti permetteva di costruire un uno sparatutto a scorrimento verticale diciamo era già tutto un po' preimpostato però tutti costruivi il background le schermate i nemici l'animazione no? e quindi quella fu la prima volta in cui non dovevo calcolare gli sprite in binario non mi dovevo preoccupare di nulla dovevo soltanto divertirmi e quando avevo 17 anni avevo fatto un gioco che si amava Nucleo 4 4 qualcosa e l'avevo sì vabbè quei nomi che non vogliono dire assolutamente niente che fanno figo no? non è che e me lo ricordavo come un bellissimo gioco nella mia testa era così e la cassettina l'avevo mandata anche a Zap perché io è vero che programmavo al PC però mi piaceva molto leggere le riviste di Zap e quindi lo mandai perché Zap dedicava una o due pagine a chi disegnava giochi in Seuc e non ho mai visto risposta è andata così quindi quando ho riacceso il Commodore 64 una delle prime cose è stata quella di andare a cercare le vecchie cassette dove avevo fatto i salvataggi cerca poi alla fine la trovo per vedere come era veramente il gioco Nucleo 4 4 qualcosa quello che era e metto la cassettina nel registratore e non funziona sicuramente era l'Azimuth quindi prendi cosa l'Azimuth destra si continua a non funzionare moccoli in tutti i modi possibili e poi alla fine scopro che ci avevo registrato sopra i Guns N'Roses no eh sì perché allora quando tu hai 17 anni e non hai soldi ogni cassettina è un tesoro inestimabile no altre priorità erano erano altre priorità cioè la priorità di 17 anni era quella di sentire Guns N'Roses andare a fare il figo e dire che conoscevi Guns N'Roses no e quindi ci sono rimasto male ho detto va bene voglio ridisegnare nulle o quattro o quattro quello che era per quello che me lo ricordo e iniziai ho ricominciato lo stesso progetto naturalmente è venuto fuori una cosa completamente diversa e spero anche migliore però lo scopo era quello di disegnare questo gioco arrivare in fondo e mi ero dato come obiettivo di partecipare al contest di Richard Bylis che c'aveva il TND e quindi niente ho partecipato non sono arrivato nemmeno un granché bene sono arrivato sesto io speravo speravo di arrivare prima ah vabbè questo è giusto è sacrosanto però sesto non è male dai ma non era nemmeno bene per me non era nemmeno bene però il mio gioco mi piaceva nonostante tutto perché durante lo sviluppo avevo trovato un po' di trucchi per per riuscire a fare un gioco che dura 14 minuti che è tanta roba insomma un gioco completo con 4 boss finali 4 paesaggi poi sì ovviamente è uno sparatutto a scorrimento verticale non è che che abbiamo sconvolto il mondo però ha la sua grafica e il suo stile è molto pixelosa molto insomma c'ha il suo stile è venuto pure bene e c'è una parte del e c'è una parte del di questa mappa che ricorda i paesaggi cioè l'ambientazione di Eurydium quelle grandi lastre immense dove l'astronave va sotto comunque arrivai sesto non ero contento ma mi contattò Richard Bylis e mi disse guarda il tuo gioco mi è piaciuto molto perché non ci mettiamo la musica e facciamo qualcosa allora prese il gioco fatto in SEUC e lo rimodificò aggiunse la musica si fece una intro si fece una fine insomma gli si debba un po' un senso a questo gioco e niente e poi dopo l'abbiamo messo online e tutti lo possono giocare naturalmente gratuitamente e cercare di divertirsi ecco esatto perché lo stavo per dire io però hai fatto bene ad anticiparmi Nucleo 448 è scaricabile io lo cioè è scaricabile ma è anche giocabile online credo sì è giocabile online è vero e se hai un emulatore lo puoi giocare su un emulatore poi nelle istruzioni c'è anche scritto per chi ha voglia di convertirlo su un nastro o su un disco e giocare sull'abrio originale correggimi se sbaglio si può fare tranquillamente assolutamente anzi ed è un bello giocare sulla macchina vera esatto no no ma infatti quella è la cosa più incredibile cioè la cosa più straordinaria dell'esperienza di un gioco di un computer fatto oggi è farlo girare comunque sull'abrio originale questo non ci piove allora io non ci riesco perché perché siccome c'è un museo mi fa cioè mi dispiace se poi si rovina qualcosa perché non essendo roba mia sai com'è ci tieni sei molto più attento a quello che fai però giocare sull'abrio originale ha tutto un altro effetto io sono va benissimo l'emulazione ma non c'è cioè è un'altra esperienza non io su quel dibattito lì non ci voglio neanche entrare e nuco 4.4 no 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 ma infatti non è non è non è un problema nostro è scaricabile io l'ho scaricato fra l'altro proprio poche ore fa perché devo preparare una cosa e poi diciamo in fondo quando a fine puntata chiariamo cioè puntualizziamo anche questa cosa e quindi è completamente open quindi è Richard Byers che ti ha cercato giusto? sì sì è un'idea tua sì sì mi cercò lui perché come ho detto prima era un gioco molti dei giochi che vengono presentati ora è un po' un po' cambiata la cosa però quando uno realizza un gioco con il SEUC è poco più di un prototipo la gente si fa tanta grafica poi dopo la riempi alla svelta e finisce la memoria invece io cercai di tirarla un po' più per le lunghe e fare un gioco che avesse un senso avesse un percorso avesse dei nemici di fine livello insomma e insomma e gli piacque e mi cercò e quindi portammo in fondo questa cosa no no è stata è stata una bella esperienza è da lì che ho detto ok posso riesco a fare qualcosa riesco pure a finirla che no no c'è da dire una cosa per quanto la gente possa diciamo tirare fuori i giochi brutti io ho il massimo rispetto per tutti quelli che lo fanno perché riuscire ad arrivare in fondo a qualcosa è un piccolo miracolo secondo me sono d'accordo poi può piacere può non piacere può essere un bel gioco può essere un brutto gioco per carità però rispetto a tutti quelli che tirano fuori un prodotto finito secondo me sì sì su questo punto siamo assolutamente d'accordo visto anche il periodo del mercato del settore gaming che insomma ha qualche difficoltà in questo momento a tenere a tenere la base lavorativa e spesso no penso a guardare è proprio una parentesi a chi ha lavorato a skull and bones che ci ha messo non so quanti anni per uscire e tutti si sono assolutamente attaccati comunque fa schifo di definizione perché ci ha messo per dieci anni per uscire però ricordiamoci ci vuole il rispetto per chi ci lavora perché chi ci lavora chi lo fa non lo fa a spregio se viene male non è non è non è non è la volontà di nessuno poi ci sono probabilmente errori alla base e quindi il gioco non riesce tutto qua no ma poi comunque c'è da dire una cosa per quanto riguarda la mia esperienza anche per il secondo gioco che ci arriviamo una cosa è quello che tu hai in testa è quello che vorresti fare e una cosa è quello che ti vieni fuori è un po' come dire ho da scrivere un tema per fare un esempio scolastico in testa ho tante bellissime cose però poi dopo quando le metti sulla carta scritte non funziona e prendi insufficienza oppure oppure scrivi un libro scrivi 5 capitoli e al quinto capitolo dici ma che sto a scrivere cioè non esatto una cosa del genere diciamo che la fase creativa è proprio la fase creativa è ingestibile da questo punto di vista cioè non è che uno può mettere non la puoi automatizzare secondo me comunque era solo ecco era un appunto sul fatto che vedo spesso ma non solo io tutti vediamo questi commenti a volte mi sembrano un po' al di là della superficialità ecco tutto sì ma perché la gente non ora non voglio però chi non ha mai provato a portare in fondo un prodotto non lo può capire la fase creativa durerà un 20% di tutta la lavorazione del gioco secondo me forse anche troppo 20% ho voluto esagerare non li volevo tanto allora visto che l'hai anticipato per fortuna nucleo 447 nucleo 448 perché il prototipo chiamavolo era 447 poi è diventato 448 ti ha convinto ad andare avanti sì mi ha convinto ad andare avanti sì ora nel processo successivo tra l'altro c'era un gruppo di persone che molto conosciute in Atari Tech c'era molta centaccia ma andiamo per andiamo per in modo coerente seguendo la linea c'è già una grande hai fatto una scelta che la so che io ti ammiro perché ti sei posto una sfida incredibile secondo me giusto con il secondo gioco qual'era la sfida? era una grande sfida la sfida è quella di affrontare i limiti dello spectrum cambia piattaforma primo cambia piattaforma perché io è vero che sono un commodoriano però non ho mai odiato lo spectrum anzi ero uno di ero uno di quelli che diceva sì ok non è potente come il 64 sì ok non c'è la musica sì ok non c'è i colori sì ok tutto ma quello lo puoi programmare cazzo può essere può essere per 64 io avevo mi ero perso in tutte quelle pack e quelle poche che era poi io non è che fossi un genio però era nemmeno facile da gestire e lo spectrum mi piaceva mi piaceva la forma dello spectrum quello piccolino stondato dalle parti con la linea dei colori mi piacevano molto le immagini dello spectrum in alta in alta definizione insomma c'aveva tutto il suo il suo perché mi piaceva però lo spectrum aveva i suoi bei limiti tra cui il color il famoso color clash che per chi non lo sapesse per ogni carattere composto da 8 pixel in verticale orizzontale tu puoi avere al massimo due colori quindi quando vedevi passare uno sprite praticamente lo sprite prendeva il colore dello sfondo praticamente faceva l'effetto camaleonte esatto tu vedi passare un qualcosa di strano ma c'ha lo sfondo che insomma era così infatti Leonardo scusami una delle tecniche era farli monocromatici infatti era farli monocromatici sì sì esatto infatti aveva dei bellissimi giochi isometrici monocromatici c'erano anche sul Commodore 64 venivano convertiti però sullo spectrum era proprio la sua caratteristica e quindi ho detto ok voglio provare a sconfiggere sconfiggere voglio fare un gioco che non che non soffre del color clash e poi voglio fare un gioco che sia colorato perché mi capitò di vedere queste immagini guarda i 100 giochi più belli dello spectrum per così dire che ti fanno vedere le 100 schermate tutte in un'immagine e la maggior parte delle schermate erano scure perché chi sviluppava con lo ZX Spectrum era ovvio che lasciasse lo sfondo nero e poi dopo prevalentemente nero e poi utilizzava gli sprite colorati ma era giusto era una tecnica così il problema è che quando io parlavo con gli appassionati dello spectrum e gli facevo notare questa cosa la risposta era sempre eh ma è lo spectrum eh c'è il color clash eh ma è lo spectrum quindi l'impressione che io ho avuto in generale è che è lo spectrum aveva in qualche modo dato un'alibi a tutti i disegnatori di farlo di fare i giochi nello stesso modo questa è stata un po' una cosa ho detto male? no no un alibi proprio sì ma è sembrato un alibi no? è così si fanno così si è sempre fatto così si è sempre fatto così faremo così e io ho detto no vabbè una volta tanto che mi butto sullo spectrum io come comodoriano voglio fare qualcosa di diverso e in quel periodo io mi ero innamorato di un gioco che avevo giocato sulla playstation 3 che è un gioco meraviglioso che si chiama Limbo sì Limbo è un gioco platform con un'atmosfera terribile veramente terribile nel senso cattiva parla di questo bambino che deve fare un percorso più che un platform è un percorso che questo bambino fa attraverso questo mondo orribile cattivo veramente e aveva un'atmosfera meravigliosa perché il bambino e tutti i personaggi principali erano neri con questo sfondo grigio con scalanature di grigio e creava un'atmosfera bellissima e quindi io dissi questa è la mia soluzione io costruisco un gioco dove i personaggi principali sono neri e dietro lo faccio colorato questa è stata è stata la scelta fin dall'inizio sì 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 è stata questa è stata una cosa sì e dissi quale piattaforma uso per sviluppare questa cosa e allora esisteva esiste ancora oggi un programma scritto da Jonathan Candwell che si chiama AGD Arcade Game Designer che è una cosa molto simile al SEUC per il Commodore 64 ma questa a differenza del Commodore del SEUC che faceva che faceva giochi a scolimento verticale questo era specializzato in platform e quindi mi è venuto bene ho detto non voglio più fare un gioco a scolimento verticale dove si spara e basta mi voglio buttare sul platform e ho iniziato a disegnarlo e poi ho iniziato anche a programmarlo un po' utilizzando diciamo un metalinguaggio un qualcosa simile solo che ho scoperto che non mi piace ho riscoperto ti sei ricordato ho ricordato che non mi piaceva programmare eppure era un linguaggio semplice era abbastanza affrontabile però proprio non ce la facevo e ogni volta che cercavo di capire un po' come funzionava questo linguaggio c'era sempre una persona dall'Olanda che mi rispondeva sempre molto gentile che si chiama Kesvanos e lui mi dava tutte le spiegazioni e a un certo punto l'ho proprio chiamato e gli ho detto senti Kiss hai due possibilità o io ti faccio domande in continuazione e tu mi rispondi o mi programmi il gioco esattamente e lui ha detto ti programmo il gioco e quindi piano piano io e Kiss abbiamo iniziato a programmare il gioco a fare le prime schermate gli spiegavo cosa volevo a lui evidentemente era piaciuta la mia grafica e e a un certo punto mi tirò fuori questo prototipo che appena mi arrivò il prototipo del gioco di una parte del gioco le poche schermate e io iniziai a giocarlo e i primi due minuti era bellissimo perché vedi i personaggi e le animazioni che hai fatto te muoversi in un mondo virtuale bello ma dopo mi resi conto che era un gioco totalmente noioso cioè nella mia testa era fighissimo ma nella realtà era due palle e lo dicevo io a un certo punto uno deve avere pure l'umiltà di dire ok quello che hai in testa non corrisponde alla realtà che si fa adesso e che fai adesso chiami tutta la gentaccia che conosci e chiedi aiuto purtroppo eri messo male sì ero messo male ero messo talmente male che ho chiamato anche te eh vabbè questo è scavare cioè il fondo del barile spaccarle andare sotto eh lo so ho chiamato il Gori ho chiamato Marco e un po' tutti Marco diciamolo che aspetta Marco forse è meno conosciuto il sì è vero ehm eh sì ora ora te lo dico aspetta eh sì ora abbiamo scusaci Marco abbiamo una doppia amnesia in in diretta ti abbiamo evocato solo un'oretta fa eh tanto per dire ma eh diciamo che mh parliamo di una persona che abbiamo l'Alzheimer tutte e due sì di una persona no ma io c'è un motivo non c'è solo l'Alzheimer il post pranzo diciamo che parliamo di una persona Marco che tra le altre cose tanto per dirvi livello di eh di ricerca sta cercando di ricostruire il il come si dice la strumentazione del dell'Apollo 11 in dimensioni naturali reali mi sembra e ha comunque già ed era parte di quella di quella ed era parte della mostra che comunque Marco Fanciulli ciao Marco io mi riferivo prima a Marco Moretti ah Marco Moretti già scusa c'è due Marche scusami qui esatto hai ragione allora io stavo parlando del Fanciulli comunque che si sta fra le varie cose che fa sta ricostruendo il il la strumentazione il LEM bravo il LEM perfetto poi c'è stato Marco Moretti è vero che saluto che tra l'altro mi sa che è un po' che non vedo Federico Gori che lui è dappertutto sì lui è dappertutto non e soprattutto Star Fox Mulder cioè Giovanni Galli che devo essere onesto un po' dopo alla fine ma meno male che è entrato però secondo me meno male che è entrato sì perché sì meno male che è entrato perché è uno dei pochi che è riuscito a finire il gioco anche abbastanza alla svetta ecco esatto dimostrando il livello vero livello di sfida che aveva il gioco in quel momento esatto e dimostrando quanto noi eravamo schiappe a giocarci esatto però ecco visto che stiamo introducendo quindi da un prodotto personale è diventato un qualcosa più di collaborativo diciamo così è stata una bella anche perché l'abbiamo fatto durante il periodo del covid quindi eravamo chiusi a casa per forza e quindi diciamo è nata una collaborazione piacevole ma anche forzata e diciamo è stato un buon diversivo ecco fare questo gioco un po' per tutti che tipo di platform è Metamorphosis? Metamorphosis è un platform in cui tu devi uccidere gli altri mangiarli e devolverli praticamente credo sia il primo gioco sul cannibalismo è vero però è vero c'è anche un riferimento al cannibalismo è vero c'è un riferimento al cannibalismo questo era dovuto al fatto che la GD volevo fare delle belle animazioni fare delle belle animazioni vuol dire utilizzare tanti sprite e c'era un limite massimo di 128 frame sulla GD che normalmente su un gioco normale sono tantissimi ma per come lo stavo usando io no quindi in pratica io mi ritrovai ad avere non più di 3-4 nemici diversi per tutto il gioco e dissi e ora che faccio? a un certo punto mi venne in mente che il personaggio principale il giocatore poteva essere come gli altri cioè potevo sfruttare gli stessi nemici quindi mi venne in mente l'idea dell'evoluzione quindi mi venne in mente l'idea che tu vivi dentro un sistema dove tu all'inizio sei debole poi mangi gli altri diventi più potente e gli altri diventano più deboli e quindi ti permette di salire di livello in livello fino ad arrivare alla fine le trasformazioni erano tre gli altri nemici che trovavi sullo schermo erano tre ovviamente nella parte bassa all'inizio trovi sempre i nemici più deboli poi man mano che sali trovi quelli sempre più forti quindi il gioco diciamo era concepito in maniera voglio dire matematica però non era un gioco scorretto che tu fai diventare un gioco difficile aumentando la quantità dei nemici o degli spari oppure cioè era un gioco basato su più sali più trovi nemici difficili quindi era abbastanza equilibrato sin dall'inizio il problema era che questa idea era molto bella però poi alla fine non succedeva molto altro nel gioco e quindi sono venute fuori delle idee alcune dei concetti e delle idee alcune riprese da videogiochi come cerca la chiave apri il portale cose un po' viste che però nonostante io non le volessi mettere lo ricordo lo ricordo sì nonostante non le volessi mettere devo ammettere che hanno reso il gioco molto più interessante sì sì purtroppo sono quei concetti che ci vogliono e ci saranno sempre non puoi fare io volevo fare l'alternativo però sono riuscito a farlo fino a un certo punto e poi qualcuno venne fuori con l'idea del nascondiamo la chiave nelle parti nere e guardiamo se il protagonista e il giocatore riesce a trovare la strada nel buio e io a quella cosa era totalmente contro perché mi sembrava di barare nei confronti del giocatore mi sembrava di rompere la quarta parete non lo so insomma non mi piaceva però a un certo punto fui minacciato della serie no te lo metti perché ci piace e dissi vabbè se piace alla gente ce lo lascio cioè a quel punto la cosa buona che ho fatto io credo è stata quella di abbandonare le mie le mie idee per mettere quelle degli altri e non è facile dire ok rinuncio a questa cosa per poter fare un prodotto migliore che non è come quello che mi aspettavo io ma che può piacere agli altri ed è stata poi una soluzione vincente questa perché il gioco è veramente secondo me è diventato un bel gioco è diventato un gioco diverso di nicchia della nicchia però comunque è stato apprezzato ecco da chi ha capito quello che abbiamo fatto è stato apprezzato tra l'altro un gioco in cui diciamo gli appassionati dello Spectrum in tutto il mondo ne hanno parlato ho visto specialmente in quelle sessioni in cui provano giochi uno dietro l'altro ogni tanto Metamorphosis è apparso perché tra l'altro ha avuto una distribuzione giusto? sì insieme a Kesvanoss abbiamo deciso di distribuirlo su itch io si trova ancora giusto? scusami sì sì l'abbiamo rimosso assolutamente si trova ancora tanto tempo che non entro nel sito ma comunque nessuno l'ha rimosso è scaricabile gratuitamente chi vuole fare la donazione la può fare e i soldi che abbiamo diciamo guadagnato in realtà li abbiamo sì un po' saranno stati 200 euro 120 euro qualcosa del genere in realtà sono serviti per far stampare le cassettine perché per me il gioco doveva uscire in cassetta che ce l'ho a casa ancora ce l'ho fanato non so se io però è ce l'ho fanato perché io sento il bisogno di avere il gioco fisico come una volta siamo vecchi e siamo vecchi e poi è stato regalato a tutte le persone diciamo che ci hanno lavorato ecco insomma è stato bello insomma è così no fra l'altro visto che ci ho partecipato non non sono stato certamente uno di quelli che ci ha partecipato di più però un po' l'iter me lo ricordo e ho trovato fantastico che dalle prime volte me lo raccontavi poi è uscito veramente una cosa in certi versi anche completamente diversa perché che dovevi essere tipo Doom cos'era la tua idea originale la mia idea era quella di fare un gioco platform di combattimento dove dovevi stare molto attento all'energia e entravi in queste stanze del combattimento un postile Doom qualcosa esatto però poi dopo ho dovuto aggiungere ho aggiunto una mappa ho aggiunto tante insomma ci ho messo un po' di tutto ecco però la cosa è stata divertente il processo prima creativo poi dopo chiamiamolo di produzione di sviluppo è stato interessante al punto che ho scritto un making of metamorfosis che potrete trovare in versione pdf su retro magazine fu una del degli non sono degli articoli fu un'aggiunta retro magazine di qualche anno fa e credo siano una quarantina di pagine ma tutti quelli che mi ascoltano possono stare tranquilli perché sono solo immagini la maggior parte sono immagini come sfogliare si sfoglia dall'idea iniziale a quello che si vede alla fine con battute ricordi e c'è addirittura un gant per chi non sapesse cos'è un gant è i tempi di sviluppo di un qualsiasi progetto con le persone che si sono aggiunte e ti fanno vedere anche quando si sono aggiunte perché poi alla fine arrivati ad un certo punto e il gioco girava ci rimanevano abbiamo iniziato a debaggarlo e eravamo sempre raccorto di di memoria non si sa come mai eravamo 80 byte sopra poi eravamo sotto però insomma bastava una mezza riga in più per sforare la memoria disponibile e poi arrivamo a un punto in cui decidemmo di metterci la musica esatto e lì è stato un altro mondo è stato veramente tutto un altro mondo è stato anche divertente perché Marco Fanciulli compose una musica per il gioco che però non poteva essere utilizzata perché lo ZX Spectrum 128 ha lo Yamaha il chip Yamaha dentro che funziona in una maniera completamente diversa ovviamente dal SID quindi contattammo un ragazzo esperto in queste musiche che si chiama Pedro Pimenta quindi in qualche modo prese la musica il concetto di musica di Marco Fanciulli lo trasformò nello Yamaha era una cosa completamente diversa però andava bene lo stesso e siccome avevamo tanta memoria a disposizione per la musica perché il gioco originale sta nei primi 48k la musica sta in quelli dopo da 48 a 128 non so quante se ne può usare contattai anche un ragazzo della Bielorussia Denis Palaniuk che aveva scritto tutta una serie di musiche credo scritte sotto l'effetto della vodka o cose cose techno assurde ma musica meravigliosa al punto che lui faceva le serate in discoteca facendo ascoltare la sua musica tecna fatta con lo ZX Spectrum fantastico quindi lo contrattai mi dette il permesso di usare le musiche che volevo non ci furono problemi poi non ne usamo tanto ne usamo soltanto un paio poi alla fine tra cui la musica usata per il boss finale e quindi poi abbiamo messo tutto insieme abbiamo fatto il collage abbiamo chiuso il Gorice ha fatto un bellissimo trailer credo il primo e unico trailer vero il trailer bellissimo vero vero mamma mia insomma abbiamo dato un senso a tutto insomma tutti ci abbiamo lavorato è stato bello ognuno ha messo il meglio di quello che sapeva fare sì e questa è la maggiore soddisfazione di tutto poi alla fine certo infatti lo confermo più che i giochi cioè a parte il piacere del prodotto finito è stato bello parteciparvi cioè questo lo devo dire perché insomma ci ho partecipato nelle mie possibilità però ci ho partecipato è stato molto divertente ma soprattutto a me è piaciuto il fatto che se era è ripartita con un'idea è venuto fuori qualcosa completamente diverso no però insomma però però cioè diciamo è rimasto il 50% di quello che volevo fare forse e l'altro quando ci sono quelle storie che il gioco era partito in un modo e poi arrivato in un altro ci sta voglio può succedere la voglia se ci sta e attualmente quindi ora che sei diventato un game designer a cosa stai lavorando come game designer attualmente sei diventato un game designer e se voi chiedete all'intelligenza artificiale qualsiasi copilot e così via parlami di Leonardo Vettori dirà che sono un disegnatore un rinomato disegnatore di vettori rinomato ne ho fatti due però vabbè insomma bene 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 così a un certo punto mi metto in contatto con Mario phase 101 phase 101 lui è appassionato di programmazione Commodore in particolare Amiga e Commodore 64 e mi chiede se volevo se a me avrebbe fatto piacere fare il porting di metamorfosis ovviamente come fai a dire di no cioè finalmente per la prima volta in vita mia ho a disposizione un programmatore cioè non che Kesvanos non fosse un programmatore però lavorava su un tool di sviluppo su un qualcosa che è già impostato qui invece si poteva ripartire da zero e ingrandire il gioco e farlo ancora più bello e più figo e quindi ho detto di sì ho detto di sì a fare il porting del Commodore sul Commodore 64 sull'Amiga e anche sull'MSX e dopo aver detto di sì mi sono reso conto che mi sono infognato su tre piattaforme mi sono infognata da solo e sai quelle sensazioni che dici che cazzo ho fatto? hai detto un sì di troppo sì no ne ho detto anche perché poi ho scoperto che io della grafia del Commodore 64 non ne sapevo proprio niente cioè no che non sapessi come funzionava però un conto è disegnare delle immagini è un conto è disegnare sprite e sfondi cercare di gestire i colori che è un casino perché la prima cosa che ho fatto non ho detto prima è stato quello di dire ok prendo la grafica dello spectrum e la porto sul 64 e appena l'ho visto ho detto ok questa cosa non funziona non funziona perché i colori del Commodore 64 fanno fondamentalmente schifo non c'è poi sì ci si può rigirare intorno e tutto quello che vuoi ma il blu non è un bellissimo blu come quello dello spectrum e il rosso non è rosso è nemmeno minimamente semplicemente un marronaccio quindi quando ho fatto il porting della grafica 1 a 1 dallo spectrum al Commodore 64 mentre nello spectrum aveva un senso di profondità nel Commodore 64 era un gioco totalmente piatto cioè era più brutto che dello spectrum e io questa cosa non la potevo accettare cioè io come italiano non potevo fare un gioco più bello sullo spectrum che del 64 e quindi lì ho iniziato a cercare di capire come come fare una grafica degna per il Commodore 64 e e ci ho perso tanto tempo più che altro per imparare per non tanto imparare a mettere i pixel che quello è il meno più che altro capire qual era la grafica giusta per questo gioco e come portarla sul 64 quindi ho dovuto fare un mix di grafica fra alta definizione e bassa definizione fra monocromatico e colori e insomma e ancora ci sto lavorando adesso è già impostata da tempo però insomma è un lavoraccio è un lavoraccio che mi dà soddisfazione in una giornata come oggi ci ho lavorato bene pioveva e ci sono messo lì piano piano una mezz'oretta e metti il pixel togli i pixel metti il pixel dai la cera esatto dai la cera e togli la cera quindi ci stai dicendo che usciranno cioè uscirà metamorfosi su altre tre piattaforme mi fa capire non si sa quando ovviamente è riprogrammato totalmente da zero essendo programmato da zero possiamo usare tutta la memoria disponibile quindi adesso non abbiamo più solo 27 stanze come quelle nello spettro ma siamo arrivati a 50 il gioco è più complesso è più grande è sempre lo stesso gioco cioè il tipo di gioco è quello le idee sono quelle però questa volta sono diciamo tutte le perfezioni che ho visto dopo i metamorfosi dopo l'avevo completato adesso le posso portare sulle nuove macchine funzioneranno meglio funzioneranno peggio boh non si sa però fino a che non si prova non lo sappiamo faranno i giocatori a dirlo faranno i giocatori a decidere a decidere e e visto che siamo arrivati diciamo al termine della puntata a questo punto vorrei anche annunciare che quello che io chiamo non ti offendere l'idea Kojima della Val di Pesa va bene perché almeno tutta la Val di Pesa non solo di Mercati no no tutta la Val di Pesa perché serve anche per non so per togliere l'onta che ha questa valle per colpa di quei cretini mangiatori di merende sabato prossimo 16 marzo sarà ospite graditissimo al Museo del Calcolatore primo perché è un socio quindi ci fa sempre piacere avere i soci che vengono ci è già stato Federico Gori due mesi fa ci sarai tu e poi quest'anno forse riusciamo anche nelle altre aperture mensili a portare altri ospiti quest'anno abbiamo dovuto un po' cambiare la modalità in cui apriamo quindi portando un po' di novità perché comunque ora io spero di farlo vedere in hardware originale Nucleo 448 e Metamorphosis però ci avrò i backup come ci siamo già detti di un emulatore perché mi dispiacerebbe arrivare lì e fallisce qualcosa e lasciare le persone un po' appese quindi sarai ospite risponderai alle domande presenterai le motivazioni per cui ti hanno portato a recuperare questa passione che avevi per fare videogiochi probabilmente dopo Metamorphosis farai anche qualcos'altro a questo punto dopo Metamorphosis non farò mai più Metamorphosis perché è una cosa che sta andando avanti da diversi anni prima con lo spettro ma poi anche con questi qui più che altro Metamorphosis adesso mi è servito per imparare a gestire la grafica di tre computer ora li conosco bene e il mio prossimo progetto dopo Metamorphosis sarà uno strategico voglio cambiare genere e siccome io sono schiappa a giocare agli strategici e nemmeno mi piacciono voglio fare uno strategico che forse mi può piacere a me guarda che secondo me se ne parli un coge ma lui ti appoggia in pieno comunque quindi 16 marzo via della Iale a Prato dalle nove e mezzo circa il mezzogiorno e trenta avremo Leonardo Vettori che sarà lì disponibile per firmare le copie addirittura eh me la firmi ma ti piace perché ce l'ho però non è firmata però me la firmi tanto il cello fa non lo toglierò mai perché ci tengo tantissimo e niente quindi a questo punto ti aspettiamo anche per il prossimo videogioco ne vieni a parlare la storia del Memories ma che dici tu mi inviti io vengo non ci sia il problema per te questo è sempre aperto davvero grazie ancora Leonardo che mi hai dato ci hai concesso la voglia di partecipare a questa puntata a me fa sempre piacere quindi ormai ci conosciamo da diversi anni però piacere fa sempre spero che tu sia stato bene nonostante un tempo oggi veramente dire mutevole dire poco ora sembra di essere in estate un ora fa sembrava di essere in inverno sono stato bene sono sul divano infatti lo vedo sono fuori sono stato bene sul divano abbiamo superato anche qualche inghippo tecnico insomma qualche problema tecnico abbiamo superato che ti devo dire ci vediamo sabato ci vediamo sabato mattina vi aspetto per qualsiasi domanda io cercherò di darvi una risposta esatto ci vediamo e quindi come direbbe Illy salutiamo tutti ciao 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 permettetevi di darvi un consiglio perché se siete appassionati di retro gaming probabilmente potrete trovare interessante anche un altro podcast come quale? il mio Io sono Mike e vi invito ad ascoltare Arcade Story Podcast, il podcast che vi racconta la storia dei videogiochi arcade e anche le professioni che ruotano intorno al mondo dei videogiochi di oggi. A presto!